ciao sono il dottor max benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in italia in questa guida ti fornirò un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano nella lista troverai i nomi delle farmacie i loro indirizzi completi i numeri di telefono e codice della farmacia al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più vicina a te in questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano a mesagna in provincia di brindisi in puglia farmacia antonucci rita piazza vittorio emanuele 69 telefono 0 8 3 1 7 7 1 1 3 7 codice 12.887 farmacia cavaliere piazza giuseppe garibaldi 16 telefono 0 8 3 1 7 7 1 1 2 7 codice 12.889 farmacia de luca via francesco vita telefono 0 8 3 1 7 7 1 1 1 8 codice 12.888 farmacia mater domini via maya mater dona 151 telefono 0 8 3 1 7 7 6 3 4 2 codice 12.948 farmacia nocera sas del dottor alfredo alfredo nocera e compagni via basilicata 20 22 24 telefono 0 8 3 1 7 3 7 0 2 1 codice 12.937 farmacia ricupero sas di nocera alfredo alfredo e compagni via guglielmo marconi 73 telefono 0 8 3 1 7 3 4 7 2 4 codice 12.919 farmacia farmacia sant'andrea srl via manarino 13 via manarino 13 telefono 0 8 3 1 7 7 3 0 3 2 codice 12.990 farmacia spalletta snc via r antonucci 42 telefono 0 8 3 1 7 3 8 1 5 5 codice 12.931 a mesanne non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità soprattutto in momenti di necessità o emergenza ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più comoda per le tue esigenze personali ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse il dottor max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno la tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura questo canale potrà esserti utile in futuro ti consiglio di iscriverti grazie ancora per l'attenzione buon proseguimento grazie 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 grazie